E saluti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Sono sempre io Jurassic 410 E oggi siamo qua Nuovamente Su Half-Life 2 Dove ci avevamo lasciati l'altra volta Quindi con la scelta di Dove andare su o giù Andiamo su Andiamo Ok E becchiamo una fantastica torretta Quindi la scelta giusta Era andare giù Ovviamente Ok non perdiamoci in chiacchiere E quindi andiamo giù Quindi in realtà non c'era una vera scelta Semplicemente O vai verso la morte O procedi normale Ok Qua ci sono Combine 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 Sì Me lo aspettavo eh Ho quasi finito Ok Molto molto bene Pensava lui Guarda che non si aspettava Dai spostatevi Siete belli però Spostatevi Qua c'ha un proiettile in faccia È possibile Uddio Uh Va bene andiamo avanti Quindi stiamo scendendo Perché stiamo scendendo Verso l'oblio Ok perché stiamo scendendo Verso l'oblio Verso il nulla Il cosmico Molto pericolosa Questa cosa eh Molto Molto pericolosa Questa cosa Che ho appena fatto Forse non avrei dovuto farla Avete ragione Ma ormai Chi se ne frega Ah grazie Buono andiamo avanti Tanto abbiamo due medici Abbiamo Ok sempre più giù ovviamente Andiamo Ma perché stiamo andando giù Non siamo saliti Non capisco Non riesco che a prendere Ah Ci sono delle torrette Male Asdf Asdf Ok Anche queste torrette Perché sono qua Per nessun motivo Ciao Ciao Ok immagino che adesso Scendendo Ecco capiamo perché C'erano queste torrette Ok saliamo Proviamo ad andare avanti Vedi cosa c'è Ok effettivamente Si va avanti Però adesso sono curioso Di vedere cosa c'è fuori Voglio uscire anche adesso Ma non ci vuole di rifare Il caricamento Quindi andiamo avanti Così Sì Vieni pure Non è un problema per me Ah Ci sono queste coste Ce ne sono tante Ce ne sono anche tante Ok Ok Perfetto Tutto molto calmissimo No Ne arrivano altre Ok Oddio ma quante ne mandano Venite Pulsante C C sto premendo C Qualcuno venga qui da me Non dovete uccidere per forza Scappate E basta C ho detto C C'è un caricamento Lo soltanto lo soltiamo No Eh ce ne sono altre Va bene E possono anche entrare Ce ne sono altre E possono entrare Ok Ok Molto molto calmissimo Si tra l'altro Tutti i nostri amici Stanno morendo Ma Ehi Deve Venire avanti Non Cioè Faccio C Non ci vengono Qua da me Boom Ok Ok C'è Non mi ricordo Non mi ricordo Come si chiama Quello lì È il Boo Di qua Si Sono proprio io Devo mettere le cariche E farle esplodere Ok Bisogna resistere Insomma Va bene Vai Difendetemi Difendetemi Grazie L'ho ucciso Da dentro la macchina È tanta roba Non riesco a uccidere tutti Difendetemi Di nuovo Grazie Adesso Sono ancora due stupide Che vanno in giro Dai Ok Ah Continuano ad arrivare Sempre queste Eccoci Va bene Vai 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 Veloce Entriamo tutti qua Tutti qui dentro Eccoci Devi dirmi qualcosa No Ah Questa porta è qui L'altra parte Dottor Freeman Magari puoi trovare un po' Un'altra parte Acqua si può passare Sì dai tutta La nostra super tutta Ah Ok C'è la zona tossica Che bello Yeah La zona tossica Mi piace Posso muovere Questa cosa No Quindi Se facciamo Ah Qua là c'è una scatola Che si è rotta Qua c'è Ah Ok Qua c'è Questo strumento Che si muove Verso noi Oh No Ok Hop Non riuscire a fare Questa cosa Hop Salta Salta Perfetto Fa molto piacere Che sei esploso Grazie mille Dov'è l'altro Dov'è Ah ovunque Va bene Sei lì buono Anche te Ok Ricarica Ricarica In fretta Perché non so Quanti ne arrivano Ok Andiamo adesso Quel tubo Lì come si fa fare Ah Tutto il giro Ok Quindi Hop Questo qua Ce lo portiamo in giro Facciamo salta Salta qua Ah Non è il fuoco Ah nel gas Ah Oh Asdi No Non volevo sparare Volevo Cambiare arma Bella persona Grazie Saltiamo su Questa macchina Ok Beh non è andato troppo male Dai siamo soltanto caduti Qualche secondo Dentro il gas tossico Però alla fine è andato Abbastanza bene Ok quindi è Pericolo radio azioni Achievement sbloccato Che voi ovviamente Non potete vedere Perché ripeto Ho cambiato il programma Di registrazione Quindi E non mi registra più Tutto lo schermo Ma solo il gioco Senza Tutte le robe Che ci sono sopra Ah si si Va bene Ah questa qua la porta Ok Andiamo avanti Allora saliamo Quindi in realtà Quella zona lì È stupida Cioè Tutto serve solo per Ehi Entra E il caricamento Ovviamente c'è sempre Nei momenti migliori Ah Eccoci grazie Però me l'ho sparato In faccia Quanto è bello Sparargli in faccia Così Va bene Cambiamo arma Adesso Perché stiamo andando In mezzo Al casino Spostati Distruggi tutto Ok Siamo dove? Da nessuna parte Qua non c'è niente Qui procediamo Qua è tutto distrutto Va bene Qua c'è gente morta Che Ok Lì ci sono Va bene Continuiamo senza curarci Tutto quello che sta succedendo Intorno a noi Perché ci sono un sacco di Dove devo andare? Ah di qua Non so Vero Può essere Oh C'è di nuovo Lo strider Come si chiamano? Strider Grazie Grazie signora Per avermelo detto Strider si chiama Quello lì è lo strider Che ha quel ragno Tipo E' tipo un mezzo ragno Strano Ok Posso andare su questa porta? No Posso andare in questa porta? No Dove posso andare quindi? Posso aprire questo cancello? No Qui è da dove sono arrivato io prima Ah Me l'ha aperta lei Grande Grazie Caricamento? No Non c'è Ah Ok Bisogna andare su Di qua Dove? No Su Bisogna andare su Vai Spostati Scansati Grazie Oddio Che Ma che pericolo Lanciano le granate così Al chiuso Questi qua Ma che folli Cioè I combine sono stra folli Ce lanciano le granate così Nei muri A caso Ok Ciao Eh Ok Vengo Granata Ci sono andato sopra Come un cretino Grazie per avermi curato Sei un grande Sei un grande Tutto ora L'unico degli uomini Che mi è rimasto Quindi Ok così Comunque lanciano Ah Ci sono Gli zombie adesso Quindi No No Grinzoso Scambiamo subitamente arma Prendiamo il fucile a pompa Va benissimo Scendi C'è nulla Ah si C'è un brutto signore Ciao brutto signore Si si Tanto adesso muore col fuoco Eccoci vedi Basta sfettare Bam In faccia Bam Di nuovo Che la vita Grazie Mi serve sempre Qua si va su Su non si può andare Quindi si va giù Cioè si va dritti Per la strada No però Questi qua veloci Mi danno molto fastidio Perché sono dannatamente veloci Beh ovvio Se si chiamano quelli veloci Magari sono un po' veloci Potrebbe anche essere C'è qualcosa Si c'è qualcosa Oh ciao Scusi Vabbè Ci La mia squadra Dov'è finita Tre Te signora Sei della mia squadra No Spostati Grazie Molto fastidiosi Caricamento a caso No Ecco il combine Dove Dove che non li sto vedendo Ah lassù Ok Ditemelo Ciao Granate E pensavi No mancato Ripensavi E sono caduto Anch'io Eh Via Via Sempre in mezzo Qua si sale Qua si sale Ah Ah Ok Molto bene Ah Localizzatore lambda Vabbè di nuovo Quella c'è Bellissima C'è Vi do una granata Esatto No Sono caduto sull'alberello Chi è che mi spara Da dove Ok Ok Buono Adesso non c'è più nessuno Che ci rompe le scatole Adesso andiamo avanti Magari senza Cadere nel vuoto Sarebbe abbastanza carino Tiriamo giù la manovella La 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 Grazie Ok Da dove sei arrivato Sento movimenti strani C'era effettivamente un movimento strano Ok C'è qualcuno qui? No Ok Ma comunque Ma comunque Non si dice Chi di voi si ricorda Padre Grigori? Nessuno di voi si ricorda Padre Grigori Se forse Ah Mi sono venuto in faccia Ah Un vero peccato Perché è un personaggio Così bellino E carino Però nessuno Se lo caga mai Di solito No eh Ah Venite tutti qua per favore Eh Pensavate Guarda lì come muore Mentre corre Venite tutti qua per favore Grazie Ah Prendiamo Il mitra normale Siamo rimasti in due Cioè siamo sempre meno Insomma Ogni qualvolta che passa un livello Siamo sempre meno Vi hanno capito Grazie Oh ci siamo un po' liberati Di tutti i combine eh Cosa ne dite voi Secondo me si Quindi Va bene così Ah nel fuoco Nel fuoco Che raggio ha questo fuoco Qua c'è un Lambda Questa cosa No ma non c'è niente Ah lì ci sarebbe qualcosa In realtà Vediamo Ok Questo Cioè Vi rendete conto Come ho fatto a trovare Questa Questa cosa qua Impossibile La trovare Cioè devi farci Proprio caso 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 Ma caso Caricamento E certo che c'era Caricamento Ovvio Procediamo Questa mi sembra Questa mi sembra Una zona brutta In cui c'è gente brutta Esatto Abbiamo una granata Li Giusto per E adesso possiamo scendere Eh Alex Dove Non era Non era Alex Mi sembrava la sua voce Cioè mi sembrava la sua voce Ma non era lei Vero Si era lei Ok Si sono pronto Sono prontissimo Molto bene Anche c'è Alex Mi sembrava la sua voce Infatti era proprio Strabella Che cambio arma Adesso Perché tanto qua Ho delle munizioni Si ti copro Tranquilla che ti copro Ok Fermi tutti Eh Che ce la facciamo Ah Davanti Davanti alla door Chi che si mette davanti alla porta Qua Ricarichiamo un po' tutto Qua zone importanti Non ce ne sono Vero Perché qua vedo che c'è Ah no Che non c'è proprio nulla Buon buono Andiamo avanti allora Via L'unica persona che può stare Al mio fianco è Alex Ti ucciderei Ma non posso Perché dopo Sembra una brutta persona Ce lo faccio Quindi non posso farlo Entriamo da qua Ah Ok Siamo ancora vivi Si Nella piazza esterna Ok Va bene Ok Arriva altra gente Via Ok Dobbiamo andare quindi Nella piazza centrale Mi ha detto E fare saltare un generatore Ah E' proprio qua La piazza centrale Ok Dove Ok Alex per favore Fai le tue cose Abbastanza Abbastanza in fretta Sarebbe carino Va bene Attiva tutto Alex Vai Ti difendiamo noi Ti difendo Vabbè Anche loro Io però lancio Mine A caso Così Piazziamole qua Tip Lancio mine A caso Sento qualcosa Che sta arrivando Ah ecco Infatti Infatti effettivamente C'è qualcosa Che sta arrivando Ma io posso passare qua Ah no C'è un campo di forza Ok Che fino a Cioè Finché sei qua Non lo vedi Poi ti avvicini E fa Eh Volevi passare Va bene Quindi Alex Stai disattivando Che grande tiro Avete visto che grande tiro Ciao Dove sei Eh Grande Alex Ci sei Alex Stai facendo cose O stai facendo solo finta Vediamo se riesco a lanciarlo Avviciniamoci un attimino Facciamo E PAP Nessuno Non riesco mai a beccare nessuno Grande Bella Mossa Grande Come sprecare i proiettili Eh Questa carma qua Ha quattro proiettili In croce Ci può più Ecco Con questa qua posso fare Disciata ogni volta Ah E questo qua Il generatore Fima che velocità Aprirsi Vediamo se riesco a beccarlo In modo Tiero Oppure no BAM No l'ho mancato Ho finito i proiettili Ok Straveloce Aprire Il generatore Comunque Devo fare qualcosa io Devo fare qualcosa io No No ok È possibile che non riesca a colpirlo Seriamente Aspetta Aspetta BAM In faccia Dove Aspetta Aspetta Ok Ok Dammi ricaricare un attimo Questa pistola Ah È già ricaricata Bene Mi fa piacere a Alex Che stai facendo cose Però guarda Se facessi un attimino più la svelta Mi farebbe molto più piacere Eh Perché qua non siamo messi troppo bene Ti dirò Ok Gli scudi si stanno abbassando Ok Lo vedo E cosa devo fare? Devo fare qualcosa io? No Grazie per il medikit Ricaricami la tuta Che è molto importante Dov'è? 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 Ok Ok Aspetta che arrivo Eh Ammunition Arrivano quelli bianchi Quelli bianchi sono Leggermente più cattivi Faccio Faccio Fatto Ho fatto Ok Difficile stato eh C'era un ponte qui Ok Stai guardando verso l'alto Non mi piace Che stai guardando verso l'alto Ok Aspettami qui Ti aspetto qua Dove stai andando? Ah ok Stai cercando di salire Ma posso farlo? No Non posso farlo anche io Giustamente Perché sappiamo che Gordon È meno agile rispetto a Alex Alex a strage La gordo invece c'è la tuta Quindi non può fare Nulla Va bene Ma perché salire su No qual'era storta Effettivamente Brava Si è fatto bene Alla salire sopra Ok Quindi Quanto tempo Per arrivarla sopra? Dai 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 Voglio sapere cosa mi dici Dimmi Ok Quindi bisogna passare da questa parte Grazie per il danno Si si Ok Quindi ha detto che Riusciamo a passare da questa parte Ok Comunque Da JossiCozion10 È tutto Vi ricordo di mettere un bel mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non avete ancora fatto E noi ci vediamo Direttamente al prossimo episodio Di Half-Life 2 In cui continueremo Appunto Scenderemo qua sotto E vedremo Di raggiungere Barney Appunto Quindi noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti